Ciao a tutti amici TecnoAndroid, questa sera siamo qui in Mobile World Congress, evento Alcatel, abbiamo avuto modo di toccare in anteprima Alcatel Idol 4S o 4S, un device veramente molto molto accattivante a livello estetico, display 2,5D e un display con risoluzione 2K e un IPS 5,5 pollici. Molto simile al device Samsung che conosciamo ormai abbastanza bene a livello estetico, anche il laterale, anche se il tastino accensione e spegnimento ricorda più quello di alcuni vecchi Sony. Comunque sia, a livello hardware abbiamo un dispositivo con processore Octa-Core Qualcomm Snapdragon MSM8976, 3GB di RAM, 32GB di memoria ROM, 16MP di fotocamera che promette di regalare scatti molto molto interessanti. Batteria da 3000 mAh sembra non essere estraibile, molto probabilmente non lo sarà. Doppio speaker stereo, tutto votato alla realtà virtuale perché questi nuovi smartphone di Alcatel sono stati lanciati proprio per essere accoppiati sia il 4 che il 4S ai nuovi visori realtà aumentata, realtà virtuale che Alcatel ha lanciato proprio questa sera. I device saranno venduti a partire da 279€ fino a poco più di 400€, dipende chiaramente dalla configurazione e stiamo parlando sia di Idol 4 che di Idol 4S, ripeto, lanciati nell'ottica di accompagnamento tra virgolette ai nuovi visori di Alcatel. Bene, per questa preview è tutto amici tecnologici, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!